Carabinieri scoprono reperti preziosi rubati all'Arcidioncesi e li restituiscono. Aveva utilizzato il social network per cercare di vendere preziosi reperti che si era procurato in maniera illecita. I carabinieri della sezione tutela patrimonio culturale di Siracusa hanno recuperato una serie di oggetti di valore che erano stati trafugati da alcune chiese della diocese di Siracusa. Si tratta di un manoscritto datato 1795 di padre Giuseppe Maria Capodieci, presbitero e archeologo siracusano, un turibolo e un reliquario della croce settecentesca, due masse confraternali, sette ottocentesche. I preziosi sono stati restituiti all'Arcidiocesi di Siracusa. L'indagine dei carabinieri è scattata dopo una segnalazione sui social. L'uomo aveva postato alcune storie dove metteva in vendita i beni. L'unità dell'arma hanno indagato riuscendo a risalire al venditore e dopo una perquisizione domiciliare hanno ritrovato i reperti per i quali l'uomo che è stato denunciato non ha saputo fornire alcuna spiegazione.